Buongiorno a tutti e buon mercoledì! Eccoci qui perché, come sempre, come ogni giorno, vogliamo iniziare la giornata nel nome del Signore, sotto lo sguardo materno di Maria, sotto la custodia dei nostri angeli, sotto il patrocinio dei santi nostri patroni e nella grande famiglia. Vedete? Cinque motivi belli per augurarci un buono e santo giorno con Gesù, Maria, gli angeli, il santo protettore e la nostra famiglia, che siamo tanti, siamo belli, siamo veramente ricchi di tante persone dal cuore immenso e grande e io ne ho la prova tutti i giorni. Non posso dirvi di più, ma ne ho la prova tutti i santi giorni. E allora, se dobbiamo pregare, facciamolo! Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen! Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci ritroviamo, se ci siete e se volete, alle 17.20 per pregare il Rosario e alle 18 per la Santa Messa. Io vi lascio un bacio come papà della grande famiglia, papà spirituale e come vostro amico e fratello. Vi voglio bene. Pregate anche per me.